25esima giornata, soltanto un anticipo, quello della sera, tra il fanalino di Coda Monterosi, del neotecnico Scazzola e del Potenza di Marchionni. Punti pesanti in palio per salvezza e play-off. La Juve Stabia va a Monopoli contro i Gabbiani di Taurino per confermarsi, dopo le due belle vittorie di fila contro Potenza e Cerignola. Dall'altra parte però il Monopoli dopo il K.O. contro Ravellino al Veneziani non può più sbagliare. Al Massimino un'affascinante catena casertana, due squadre in cerca di nuove identità, dopo gli ultimi deludenti risultati. Ne vedremo delle belle, la voglia di rivalza dei siciliani, dopo la sconfitta a Picerno e dei casertani, dopo i tanti X di seguito. Il Picerno va nella vicina potenza, in casa di una delle squadre del momento, il Sorrento di Maiuri, che non ha nessuna intenzione di fermare la sua corsa verso i play-off. Mentre dall'altra parte Longo e Murano cercano di consolidare il secondo posto riconquistato all'iscapito dei lupi di pazienza. Al Monterisi una scoppiettante cerignola a Taranto, la sfida metta a confronto Tisci e Capuano, la nuova e la vecchia scuola. Umori opposti, il Mini One galvanizzatissimo, Tisci deve recuperare terreno dopo la scoppola di Castellammare. All'Iguori, Turris foggia uno spareggio salvezza a tutti gli effetti, fa strano vedere i satanelli di Cudini relegati nelle basse posizioni dopo aver assaporato la B la scorsa stagione. I corallini di Menichini cercano il primo successo con il neotecnico. Il Giuliano contro la Virtus Francavilla del Cristofalo per rimanere in orbita play-off. I teglotti di Bertotto vogliono continuare a stupire, ma i virtussini di Acchiuzzi sono temibili, soprattutto in attacco. Cerca punti anche il Brindisi contro il Latina di Fontana, ultima chiamata salvezza per le vue azzure di Rosselli che al Fanuzzi contro i Fontini, ora come ora, non devono più sbagliare. Lunedì sera il big match dell'uscita tra Crotone e Benevento.